buongiorno eccomi dove come la stanza del letto poi la mia sala e adesso la mia cucina come vedete cucina mi vedete bene guardate sono qui per voi signore perché io sono la nonna e io cucino perché io non mostro mai nulla no non mostro mai nulla come potete vedere perché avete visto mai qualcosa che mostro non mi sembra che ho mostrato mai no quindi care signore non fate le gelose perché io non ho mai mostrato nulla credetemi perché voi avete mai visto nulla io non ho mai fatto nulla di male mai vedete vedete come vedete la vostra nonna mi vedete bene mamma come sono emozionato scusatemi che devo sistemare la scarpa eh scusatemi sì